Sono stati notati mentre camminavano a piedi al villaggio Mosei di Agrigento con atteggiamento guardingo. Poi alla vista della pattuglia dei carabinieri hanno accelerato il passo quasi come per voler evitare un possibile controllo. Il loro nervosismo però non è passato inosservato ed ha indotto i militari del locale comando stazione a fermarli e a chiederle loro i documenti. Dalle successive verifiche è emerso che i due stranieri originari del Gambia sono attualmente ospitati presso una comunità locale. Visto il loro atteggiamento sospetto e scattata nei loro confronti, una perquisizione dalle loro tasche sono saltate fuori una dozzina di stecchi di hashish del peso di più di mezzo etto. A quel punto i carabinieri hanno arrestato i due stranieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti trasferendone gli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. La droga complessivamente sequestrata, secceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro. L'attività svolta rientra in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti su tutto il territorio di competenza disposto dal comando provinciale carabinieri di Agrigento. Negli ultimi mesi infatti sono stati frequenti blitz effettuati dai militari dell'arma in vari centri dell'Agrigentino, con numerosi pusher finiti in manette e un ingente vario quantitativo di droghe sequestrate.